Amici carissimi, buonasera, sono Giuseppe Bellanca, vi parlo in veste ufficiale di candidato al Consiglio Comunale con il Movimento 5 Stelle. Ormai ci siamo, tra qualche giorno tutti quanti noi saremmo chiamati al voto. Abbiamo in mano un importante strumento, abbiamo la possibilità con il nostro voto di dare una visione completamente diversa dopo tanti anni di cattiva politica a questa nostra amata città. In questi mesi di campagna elettorale tante sono state le battaglie, siamo praticamente stati continuamente sotto i riflettori, ma la cosa più triste e difficile con la quale ci siamo scontrati è stata quella di verificare in molti cittadini una completa e totale disaffezione al voto. Un'ovvia conseguenza questa del fatto che se ci ragioniamo negli ultimi 25 anni la città è stata praticamente governata soltanto da due persone. Una è il sindaco uscente Orlando, l'altra è Cammarata, uno dei personaggi per così dire ambigui che appoggia palesemente uno dei nostri competitor Ferrandelli. Con il nostro modo di essere, con il nostro modo di presentarci, con il nostro modo di stare sul territorio, comunque una piccola vittoria l'abbiamo già raggiunta. Quella di aver fatto comprendere ai cittadini che lo strumento del voto è un'occasione importante che non deve essere lasciata persa. In questi mesi abbiamo praticamente dettato noi le linee politiche di questa campagna elettorale, siamo stati i primi che hanno presentato la lista ufficiale dei 40 candidati. Siamo stati quei folli che insieme a tanti altri attivisti, cittadini, professionisti che hanno voluto dare il loro contributo, ci hanno aiutato a costruire questo bellissimo programma che abbiamo presentato alla città. È vero, bisogna fare anche i conti con uno degli aspetti più tristi, con il fatto che comunque Palermo è sempre stata una città volta al voto di scambio, al voto clientelare, al voto da dare all'amico, al conoscente, a prescindere da quale potesse essere il progetto politico che si ha alle spalle. Ma io sarò pure un visionario, sarò un passionario, ma sono sicuro che questa volta i palermitani smetteranno di dare un prezzo alla propria dignità. Abbiamo la possibilità di votare innanzitutto il nostro candidato sindaco Ugo Forello. Se vorrete potrete associare il mio nome o quello di qualsiasi altro dei 40 candidati al simbolo del Movimento 5 Stelle, ma sicuramente chi esprimerà un voto libero avrà la possibilità di farlo in assoluta e totale libertà e trasparenza. Riprendiamoci Palermo, facciamolo insieme tutti quanti e viva il Movimento 5 Stelle!